La palestra di Letizia e questo è stato fatto proprio a quattro mani, Letizia e Giorit e la M, insomma qua è veramente uno spettacolo perché Gragnano è molto fresca, poi famosa per la pasta, famosa per tante cose, famosa anche per delle cose storiche, perché appunto di pasta, dove c'è la pasta di Gragnano nota in tutto il mondo. Qua vediamo anche qui il nuovo spettacolare Don Bosco, Don Bosco chiaramente lo conosciamo tutti, questa è una, come mi hanno detto, ci sono delle suore all'interno di questo edificio, nessuno ha voluto parlare, nessuno vuole commentare, però una signora molto carina mi ha detto una cosa, che Giorit e la ragazza facendo questi murales hanno chiaramente illuminato dei posti che prima non erano per nulla illuminati, per cui tutti i quartieri, diciamo degli sfollati napoletani e soprattutto un altro quartiere che purtroppo invece non è stato proprio possibile fare nessun murales e quindi la signora si è un po' lamentata che ha detto qui abbiamo la luce, qui abbiamo la luce, per questo motivo c'è la luce, per farlo vedere a tutti, qua c'è un campetto di calcio, non si può entrare, è sera, c'è un campetto da calcio e quello che più ci piace è vedere questo murales, ecco illuminare la desolazione, quindi dare luce alla città, la signora ha detto una cosa bellissima, dare luce a una città che è particolare, molto bella per me storica e quindi è bella, c'è una storia, ci sono i mulini, ancora si possono visitare, dei mulini che stanno praticamente vicino al duomo, alla chiesa principale e sono dei posti incredibili, solo che chiaramente come ogni città ha i suoi problemi, qua infatti si vede un po' la zona che andremo a vedere dopo dove si fa la festa della pasta, dove ci stavano molti eventi prima del covid chiudo qua e dicendo speriamo che tutte queste zone vengano salvate, vengano protette dalle persone e dalle amministrazioni chiediamo agli amministratori della città che questa Gragnano diventi una città ancora più bella, ancora più importante è ancora più all'insegna della luce, dalla trasparenza, la sanità, tante problematiche che ci sono ok Don Bosco